Mi trovo davanti a Orsan Michele. San Giorgio era un santo guerriero, per questo era stato scelto come patrono dell'arte dei corazzai e spadai, cioè i fabbricanti di armi. Scolpita da Donatello tra il 1415 e il 16, è indicata come l'opera migliore del ciclo delle arti di Orsan Michele, anche se adesso l'originale si trova al Bargello. San Giorgio è ritratto come un cavaliere con l'armatura e con lo scudo crociato, su precisa richiesta degli armaioli, che volevano mostrare la loro bravura. Le gambe, leggermente divaricate, sono un modo per far risaltare il busto eretto, l'idea di fermezza morale. Il santo è concepito nell'atto di guardare, volgendo la testa, forse verso il nemico, e tale gesto anima la statua, anche se le energie e tutta la vitalità sono trattenute. La formella di San Giorgio che uccide il drago, alla presenza della principessa, venne collocata dopo il 1417 e godette di enorme fama per il fatto di trovare applicata per la prima volta in scultura la prospettiva in un rilevo bassissimo, detto per questo schiacciato.